È stato catturato questa mattina dalla polizia di Stato a Rosarno, il latitante Marcello Pesce, boss dell'Andrangheta, ricercato per associazione di stampo mafioso. Marcello Pesce, detto ballerino, fa parte dell'ononima cosca guidata da Antonio Pesce, operativa nella piana di Gioia Tauro e con propaggini in Lombardia e tutto il nord Italia. È stata la stessa polizia di Stato a comunicare la cattura di Marcello Pesce sul suo profilo Twitter. L'uomo, al momento dell'irruzione degli agenti dello SCO e della squadra mobile di Reggio Calabria, era in camera da letto e non era armato. Non ha opposto resistenza ed è stato arrestato insieme a due uomini, padre e figlio, che erano nell'appartamento con lui, con l'accusa di favoreggiamento. Condannato in appello a 16 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, Marcello Pesce è ritenuto dagli investigatori il capo strategico dell'omonima cosca, una delle più potenti dell'intero panorama dranghetista. Pesce era tra i latitanti di dranghetta più importanti e ancora liberi. Era ricercato dal 26 aprile 2010, quando sfuggì alla cattura nell'operazione All Inside, Marcello Pesce che ha messo in ginocchio le cosche rosarnesi, che dagli anni 70 hanno tenuto sotto pressione il paese. Negli anni 90 fu coinvolto insieme all'ex capo della loggia P2, Licio Gelli, nell'inchiesta su mafia, politica e massoneria, avviata dall'allora procuratore di Palmi, Agostino Cordova. I due, oltre politici e presunti indranghetisti, furono poi assolti nel marzo del 1995 dai giudici del Tribunale di Palmi. L'inchiesta riguardava il presunto intreccio tra un'organizzazione dedita al traffico di droga, con armi, con il modo politico e affaristico, con conseguente voto di scambio. Secondo l'accusa, le cosche Pesce e Pisano si erano federate tra di loro per gestire i traffici illeciti, con uomini di fiducia che operavano in Toscana, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Calabria. A Rosarn, nella piana di Gioia Tauro, c'è la base operativa e decisionale dell'organizzazione. All'inchiesta avevano contribuito anche alcuni pentiti. Un pericoloso latitante, ricercato in campo internazionale dai sei anni, è stato assicurato alla giustizia. Questo è quello che afferma il ministro degli interni Agelino Affano, commentando l'arresto di Marcello Pesce. La sua cattura a Rosarn è il risultato di un'intensa attività investigativa degli uomini della Polizia di Stato e Reggio Calabria, che hanno lavorato con competenza e determinazione. E' dunque un successo investigativo di alto livello, ha sottolineato il ministro Alfano, che si è complimentato con il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, a conferma del nostro quotidiano impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, perché i cittadini possono sentirsi sicuri e credere sempre di più nella forza delle istituzioni.